Mettiamoci al lavoro. Faccio rifornimento. Lancio una granata! Prezzo. Troppo a segno! Siamo passati in vantaggio. Non siamo più al comando. Lancio granata! Non siamo più al comando. Ci sono le confermate. Suoviti! Granata! È andato! Attenzione! UAV nemico in arrivo! Nemico a terra! A secco! In a terra! Granata! A secco! Attenzione! Drone d'attacco nemico in arrivo! Tra l'ho spesso! Anzi! Rialt! Tanti abbiate! Ma... ...tanto è più... ...dita... Suoviti! Minaccia rimossa! No! Faccio rifornimento! Un versaglio armato! Faccio rifornimento! Nemico eliminato! Versaglio colpito! Lancio una granata! Checchino! Incarico l'arma! Stiamo perdendo lo scopo! Prezzo! Ricarico l'arma! Suo avvi nemico sopra di te! Checchino sistemato! Nemico a terra! Drone d'attacco nemico in arresto! Tutto a posto! Noi non perdiamo! Grazie.